Don Antonio Mazzi era ospite a Rai 1 dell'arena di Giletti per parlare di quest'anno che ormai e le hanno indicato come due personaggi dell'anno Valentino Rossi e Corona. Come mai Giletti ha pensato a questo e che cosa ha detto? Ma a dirvi la verità, Giletti diceva che la figura di Corona, soprattutto per i giovani, bisognerebbe piano piano cambiarla. Bisognerebbe far capire ai giovani che anche personaggi come questi in qualche maniera possono, non dico rientrare nella normalità, perché parlare di normalità, ma comunque essere meno invidiati per le stupidaggini che fanno, invece magari essere personaggi simpatici che fanno parte di un tipo di gioventù di oggi che sa e divertirsi e stare dentro le regole. Lei ha seguito Corona per qualche mese come recupero. Che persona è al di là di quello che leggiamo sulle cronache? Allora adesso te la racconto tutto perché non tutti la sanno. Io è da dieci anni che seguo Corona. Da quando ho cominciato a fare le prime puntini. Puntini, puntini. Cerchiamo di essere educati. L'ho seguito più volte perché allora io ero in televisione perché lui era lì di frequente e poi eravamo a Milano tutti e due. Il papà era ancora vivo e il papà era un grande personaggio, un grande giornalista. E la tensione che c'era tra i due, di solito, quando c'è un padre famoso, il maschio ne soffre sempre. O tenta di imitarlo o tenta, in qualche maniera, di farlo arrabbiare. E quindi l'ho conosciuto, oserei dire che l'ho conosciuto tutto il periodo, in tutto il periodo. E devo dirti che ho tentato alcune volte di intervenire, ma non ce l'ho mai fatta. Con me è sempre stato abbastanza educato, diciamo così. Non mi ha mai maltrattato. Io ho avuto il coraggio di dire a lui e privatamente e pubblicamente cose che altri non avrebbero mai detto. Poi, nel momento critico, è venuto a cercarmi. È venuto a cercarmi proprio quando io pensavo che tutto fosse finito. È venuto a cercarmi perché ha capito che stava sbagliando forte. E io in quel momento mi sono illuso, dico, stavolta ce la faccio. E invece sto perla, scusate, tra virgolette, voi al sud non capite fino in fondo cosa vuol dire. Invece ha fatto delle stupidaggini così grosse perché veniva in comunità e veniva a parlarmi. Poi i soldi falsi, in giro per il mondo, con la 500 è andato a finire. Ma vai, bisogna proprio essere cretini, cretini. E fino a quando è andato in galera e l'ho seguito sempre. E poi l'hanno messo nel calcere peggiore. Opera, non voglio offendere, non c'entrano niente le guardie, ma Opera è certamente uno dei calcieri più brutti. Non so, io li frequento quasi tutti. Per esempio San Vittore, bollate, sono calcieri ben diversi, anche se sono calcieri pesanti. E l'ho seguito, l'ho seguito in momenti molto particolari. Poi è venuto per un periodo, perché è stato scarcerato per un periodo, è venuto ancora, poi è andato dentro un'altra volta e dopo è uscito, è uscito finalmente e ha trovato un avvocato o forse dei magistrati che hanno un po' capito, che in fondo erano ciulati che faceva o no, insomma. Quanto c'è? Io, anche perché vi devo dire che io ho seguito Erika, ho seguito Erika per tanti, per tanti anni. Ricordiamo chi è Erika, la ragazza? C'è una ragazza che ha ammazzato la mamma e il fratellino e il papà mi ha pregato, supplicato di seguirla. È stato un papà straordinario, ed è un papà straordinario. E Erika ha avuto, dal punto di vista giudiziario, lo stesso tempo di pena che ha, che avrebbe e che ha, Corona. Mettiamo insieme le due cose, per carità. Per cui l'ho seguito, perché era in un carcere, lui anche in carcere ha fatto il PIRL, va bene? Poi un avvocato e anche alcuni magistrati e anche il direttore del carcere hanno capito che in fondo, in fondo, in fondo, insomma, non valeva la pena di fare un elenco di 14, 15 cose spaventose. Per cui l'hanno liberato, non liberato, hanno permesso che uscisse in alternativa al carcere. È stato con me sei mesi. E vi devo dire che si alzava come tutti, puliva la camera come tutti, faceva la mangiare come tutti. È stato dentro i tempi, ed è stato anche dentro alle regole. E le regole della comunità, anche se la mia non è una delle comunità molto rigide, ma è sempre stato. Poi adesso ha ottenuto il permesso, come si dice, di stare con i servizi sociali, cioè il servizio per poter continuare a lavorare entro alcune regole che lui ha. E vi devo dire che per me è cambiato qualcosa, ma che questo sia vicino a Valentino Rosso, uno dei due personaggi dell'anno ci vuole la fantasia di Gilletti, ci vuole la fantasia di Gilletti, oppure Gilletti spera, sperando di far ascolto. L'audience. Questa magari nel capo aereo. E chiedo scusa a Gilletti, ma non lo so. Quindi ho detto quello che ho sempre detto. Senta, per i sei mesi che ha seguito in maniera costante Corona, poi finiamo questo discorso. Ci sono stati dei risultati? O lì non c'è niente da fare? No, no, secondo me, guarda, la cosa che mi ha commosso con Corona era l'amore verso il suo figlio, che ha 12 anni adesso. Ben quando arrivava il suo figlio era un altro. Corona quando arrivava il suo figlio, anzi vi devo dire che è un altro anche quando è da solo. Corona quando è da solo è un altro. Appena ha attorno a tre o quattro va fuori di testa. Va bene? Quindi il bambino era dolce, 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 perché questo papà, per lui, ma mi sembrava che fosse proprio il figlio, 12 anni, quindi inizio dell'adolescenza. Una seconda nascita, come ha detto lei prima. Quello che ho detto a Giletti ieri, la cosa che mi ha commosso quando questo ragazzo di 12 anni abbracciando il suo padre dice papà andiamo a letto insieme stasera, che è una roba per un ragazzo di 12 anni che manda a quel paese e tutti quanti, è una cosa che mi ha commosso e quindi vuol dire che come padre, forse la paternità lo aiuta ad essere migliore. Poi senti, secondo me nessuno è irrecuperabile, nessuno è irrecuperabile, anche te, io tutti, nessuno è irrecuperabile. Senta, lei si è sempre dedicato agli altri, ha fondato Exodus, ha seguito i tossicodipendenti, ho visto nel suo curriculum prima, velocemente su Wikipedia, che ha studiato molto psicologia. Quanto è servito lo studio della psicologia per aiutare, virgolette, gli ultimi? Ecco, devo dirti che io ho studiato soprattutto pedagogia, o meglio, psicopedagogia. Ho dato molta importanza alla pedagogia, perché secondo me il problema di questi ragazzi non è come punirli, o come recuperarli dal punto di vista, tra virgolette, sanitario, ma è come recuperarli dal punto di vista educativo. E quindi ho lavorato, ho letto, ho scritto, ho seguito molto i grandi educatori da Baden Powell, per me Baden Powell è Don Bosco, che poi Baden Powell cosa ha inventato? Ha inventato la notte, la notte, la tenda, il fuoco. Non è, non ha tirato fuori i paroloni di Fromm o di Freud, di Ericsson, capito? Ha preso il nodo, i nodi, chi ha fatto gli scout? Io ho fatto l'assistente, il consulente degli scout. Il fuoco la notte con i canti scout e Don Bosco con l'oratorio, i due più grandi educatori del mondo. Non hanno mica scritto i libri atti così. Baden Powell, e Don Bosco ha inventato l'oratorio, dopo i salesiani hanno inventato l'università, che ho frequentato anch'io, va bene, ma il vero Don Bosco è quello che ha inventato l'oratorio, dice ragazzi divertiamoci, il primo che correva con loro era lui, e poi piano piano dall'oratorio è passato, dal gioco è passato all'educazione, eccetera. Vedi, questi preti che non capiscono niente, rovinano i figli perché prima li mandano in chiesa, e poi li fanno giocare, quindi si incavano in chiesa e poi non vanno più neanche nell'oratorio. Quanto nelle sue comunità, quanto c'è il camino, c'è la tenda, ci sono i canti? Sì, la messa. Allora io l'ho chiamato le quattro ruote, perché l'ho chiamato exodus esodo, perché ognuno di noi deve camminare verso, ma anche noi, anche noi, il popolo ebraico, perché si è salvato? Si è salvato perché ad un certo punto ha detto rischiamo la pelle, ma cerchiamo qualcosa di nuovo. Va bene? E io credo che ciascuno di noi deve uscire dal suo egoismo, dalle sue stupidate o anche dalle sue porcherie. E quindi è il cammino, le caravane. Le prime trent'anni fa non ho mica inventato la comunità, io. Ai tempi c'erano i nomi grossi, c'era San Patrignano, c'era Don Benzi, c'era Don Ciotti, c'era Don Pierino, una roba grossa, io ero pretino, da quattro soldi. Va bene? Ho tirato fuori la mia esperienza di scout e di oratorio. E ho detto, sentite, qui, l'avventura, il gioco, il teatro e l'amicizia, bene, vediamo se riusciamo a fare qualcosa in barba a tutti gli psicologi di questo mondo. E quando ho fatto la prima esperienza, dico, da chi vado? A chi vado a spiegare che un tossicodipendente, che allora li mettevano dentro nelle comunità, li chiudevano, può stare in una normale comunità con i cancelli aperti e può vedere il suo padre, il suo amare. Dice, ma chi è? Questi mi dicono che sono matto. Se vedete da chi sono andato? Sono andato da uno psichiatra che è più matto di me, che si chiama Vittorino Andreoli, che è molto più matto di me, che è veronese, che è veneto. Sono andato a spiegare, dico, senti, Vittorino, tu mi devi dire che io ho ragione. Mi devi dire che io ho ragione. E che quindi ho preso i primi 14 ragazzi del Parco Lambro, va bene, e li ho portati per nove mesi con tre camper in giro. Abbiamo fatto tutta l'Italia, vivendo, mangiando, dormendo, dove c'era, dove c'era e chi ci accettava. Siamo andati a dormire da Don Tonino Bello. Abbiamo suonato ad un momento di clausura, perché una sera pioveva che Dio lo mandava. Le suore, poverine, quando hanno visto sta roba, capito, sono svenute, credo che, non so se poi qualcuna sia morta, o abbia fatto qualche infarto. E siamo andati a dormire, io ho un oratorio lì tutti per terra. È stato così, è stato così. È questione di educazione. Anche il peggiore dei ragazzi. Se in qualche maniera lo capissi, io dico che dentro di ciascuno di noi c'è Abele, va bene, c'è, è un angolino, ma anche nel peggiore dei Caini, va bene, c'è un angolino. Anche Caino è fratello di Abele o no? Allora bisogna che noi tiriamo fuori, anche in Erika. Guardate che Erika ha finito. Erika adesso è normale, Erika si sta sposando, va bene? E io spero che succeda così anche per Fabrizio Corona e anche con tutti gli altri, capito? E quindi credo, credo che se possiamo tirare fuori quel piccolo Abele che abbiamo dentro tutti, e questo è il mio mestiere, è tirare fuori Abele anche nel peggiore dei Caini. Da quei 14 ragazzi che giravate in camper per l'Italia, quanti ragazzi poi sono venuti? I 14 ragazzi ne ho perso uno. La caravana che mi è riuscita in assoluto migliore è stata quella lì. Perché dopo noi ne salviamo quando va bene un terzo, quando va bene. Ad oggi c'è un bilancio di quante persone ha seguito? No, io non voglio fare bilanci perché ai miei ho sempre detto noi siamo fatti per seminare e non per mietere. Perché se andiamo in fondo al campo per vedere i risultati andiamo tutti al manicomio. Piantiamo, seminiamo, vediamo. Guarda, sono 30 anni, sono passati 20-30 mila ragazzi, ma abbiamo già dato un terzo. Se tutto va bene è un terzo. Oggi si parla poco del rischio droga, o meglio, si parla soprattutto di liberalizzare le droghe leggere, eccetera. Ma oggi il rischio tossico-dipendenza è droghe, a parte l'alcol, eccetera. Esiste ancora? È tutto intero. È che oggi invece che droga sono droghe, sono dipendenze. Perché sembrava che fosse sparita l'eruina, invece è ricomparsa. La coca ormai... Era la droga dei ricchi, ora di tutti. È di tutti, anche perché costa poco. Ci sono applicate alla... Purtroppo alla droga si sono applicate le anfetamine, soprattutto che, tra virgolette, poi le abbiamo chiamate crack, che è questa miscela tra... Credo che sia tra cocaina e miscele, più... No, no. Cocaina e miscele. L'eruina eventualmente entra perché quelli che sono editi alla cocaina, siccome la cocaina spara molto, come tranquillante, come tranquillante, dopo non l'eruina, pensate come siamo ridotti. E poi si è aggiunto il gioco. Si è aggiunto il gioco e l'alcol. Noi abbiamo a che fare adesso, quando ho cominciato erano tutti grandi, diciamo erano grandi, gente sui 30 anni, sui 25 anni, adesso abbiamo deciso di affrontare gli adolescenti. Quindi stiamo cambiando le comunità, non solo le metodologie, perché abbiamo affrontato il tema dell'adolescenza. Cioè vogliamo arrivare prima, perché oggi a 12 anni ci capitano già ragazze, ragazze alcoliste. Dico ragazze o no perché sono antifeminista. Perché l'alcol è entrato nel mondo femminile, ma non è bestiale. È nel mondo adolescenziale. Quindi se tu metti insieme gioco, alcol e anfetamine, dico già l'adolescente. Poi i genitori che non capiscono, la scuola, gli insegnanti che non capiscono niente, mi scuso con gli insegnanti, dobbiamo cambiare radicalmente la scuola media e inferiore. Dobbiamo cambiarla radicalmente, perché è lì che esplode la prima adolescenza. E quindi bisogna rivedere l'orario, le aule. Come fa un adolescente a stare 5 ore in un'aula, in un banco, va bene, dopo un quarto d'ora c'è già il sedere quadrato, è già stufo. Tra 5 ore, va bene, seduto dentro quella roba lì, un ragazzo che ha nello sviluppo, che sta esplodendo dentro. Mi dica una cosa, ma lei è un enriquieto? Nel senso che mi ha raccontato di questa storia dei ragazzi seduti 5 ore al banco. Prima mi ha detto che lei in terza media è stato bucciato per cattiva condotta. E allora? No, dicendo io ero inquieto, sei molto educato. Sei molto educato. Io ho sempre detto che sono un borderline. Borderline. Al confine. Sulla linea del confine. Sulla linea del confine, perché solo lì puoi lavorare. per i ragazzi che ho io, solo a quel livello lì puoi lavorare. Se diventi troppo normale, li perdi tutti. E se vai di là... Droghe libere, sì o no? No. Qual è il rapporto? Io non voglio libero neanche il fumo. Cioè la sigaretta. Io sono un bestialito. Va bene? Che la sigaretta, che il fumo sia ancora così... Libero. Stralibero. Vogliamo parlare un attimo, qual è il suo rapporto con la Chiesa di Roma? Allora, se per Chiesa intendi il Papa, oserei dire che il mio rapporto è fraterno, anche perché io lo conosco. Piace il Papa Francesco. Anche perché io l'ho conosciuto in Argentina. Noi avevamo, avendo sette... Essendo in sette nazioni del mondo, eravamo anche a Buenos Aires. E io sono stato in uno dei quartieri di Buenos Aires con i miei ragazzi, per la droga. Un quartiere di 95.000 abitanti, senza strade, senza fogne. Dunque, pensa che roba. E lì ho conosciuto quando era cardinale. Tra l'altro, ho preso, ho fatto una cretinata che non finiva più, perché è venuto a salutarmi. Le ciabatte, no? Le ciabatte, hanno loro delle... Quelle robe lì, insomma. Poi i pantaloni, e una camicia. E ti salutato? Cardinale, era il cardinale. Il cardinale, pensa che figura, pensa che figura che ho fatto, quindi l'ho conosciuto lì. Se il Papa... diamo un noto più, ma alla Chiesa, io devo dirti che sono... Ho fatto la guerra a Bertone e mi è andata anche bene, ha tirato fuori, però appena 150.000, deve tirare fuori di più. Ma se tutti i cardinali andassero, andassero per due o tre anni nei paesi poveri, e ci fosse, e non ci fosse più il Vaticano, non ci fosse più... Se il Papa prendesse il suo bel bastone, va bene, un paio di zoccoli andasse ad Assisi e chiudesse, dice, facciamo l'anno santo, non aprire la porta santa, chiudere, chiudere il Vaticano per un anno. Che mi dice... E mandarli dove ci sono i poveri. Che mi dice di questi... dei cardinali, di questi scandali, le suite bellissime, tanti migliaia di euro, centinaia di migliaia di euro, magari tolti, in questo caso, al Gesù Bambino, all'ospedale. Rientriamo nel discorso, chiudiamoli? No, se è vero che c'è l'inferno, il purgatorio, il paradiso, io Bertone, vorrei che certamente non fossi il paradiso. Va bene, perché se è il paradiso Bertone, vado via io. Vado via io. Va bene? Vado via io. Allora, abbiamo parlato della Chiesa, abbiamo parlato del rischio delle droghe, non della droga, ma delle droghe, dalle dipendenze. E una battuta sui giovani di oggi? Guarda, i giovani di oggi sono migliori di quelli di ieri. Bisogna prenderli? Bisogna prenderli? Questi ragazzi sono ragazzi che hanno sviluppato moltissimo il senso della, diciamo, della conoscenza, molto meno il senso della riflessione. Capito? e quindi dentro hanno un grande vuoto che non è dovuto a cattiveria. È perché noi non abbiamo dato a loro la possibilità di riempire questo vuoto e sono più sensibili di noi. Beh, io capite già anche adesso come sono, quindi potete immaginarvi quando avevo 16 anni come ero. Va bene, sono più sensibili di noi, però bisogna assolutamente avere meno paura, parlare molto di più, va bene, e farli tribolare un po' di più. Se i ragazzi di 16, 17 anni andassero in agosto o un'estate invece che fare le gite scolastiche andassero in quei posti lì, secondo me va bene, capirebbero tante cose e certamente capiremo anche noi quanto sono ricchi questi ragazzi e quanto hanno bisogno che noi mettiamo dentro di loro, va bene, che non abbiamo paura, che mettiamo dentro di loro delle cose significative, che gli diamo passioni, che gli diamo senso alla loro vita. Vogliamo chiudere con gli auguri? Auguri di una... Io ho detto, sai che io lavoro anche per RTL, la mattina faccio il pensierino, allora la vigilia di Natale ha fatto questo pensierino, Gesù è diventato bambino perché aveva bisogno di carezze, il Dio si è fatto bambino perché aveva bisogno di carezze e forse alle carezze è una delle poche cose che incominciano a mancare in questo mondo e siamo ammigliorati un po' mi pare, mi hanno detto che abbiamo quest'anno abbiamo speso un po' di più quindi vuol dire che abbiamo 4 lire in più ecco, forse aggiungiamo anche qualche carezza in più in casa nostra che forse così diamo una mano al Papa diamo una mano al Padre Eterno ma diamo una mano anche al nostro cuore che ha bisogno di carezze. Grazie Don Mazzi auguri, grazie. grazie a tutti a tutti